Macabra scoperta domenica sera in un appartamento al primo piano di via Manzoni a Maerne di Martellago dove un uomo poco più che quarantenne, una guardia giurata, è stato trovato privo di vita. A lanciare l'allarme la moglie che non abitava con la vittima si è preoccupata per l'assenza di risposte al telefono finché verso le 20 non sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di mestre, una pattuglia dei carabinieri e i sanitari del 118. I pompieri sono riusciti a entrare nell'abitazione attraverso una finestra trovando immediatamente il corpo dell'uomo in camera da letto. Da un primo esame esterno non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Al medico non è dunque rimasto altro che constatare il decesso. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la vittima possa essere stata stroncata da un malore. Spetterà al magistrato decidere se disporre o meno ulteriori accertamenti sulla salma.